Leo Moraes, dunque, ho quell'azione personale, hai detto ora faccio tutto da solo, hai trovato un gran gol che porta tre punti fondamentali. Sì, è sempre bello fare gol, no? Quando è così, è il terzo gol che porta la vittoria a casa, è molto più importante, è molto più bello. Però per me quello che importa di più è che giochiamo con una grande squadra, tutti insieme, quello che mancavano era la vittoria, tre punti. Oggi è venuto così, bello, siamo in Coppa Italia, un obiettivo molto importante per la società. Ecco, da quando sei arrivato hai portato esperienza, hai portato qualità, che gruppo, che società hai trovato? Io, del primo giorno che sono arrivato qua, mi sento a casa, veramente posso dire così, mi sento veramente a casa. Mi trovo molto bene con i compagni, io sempre dico, io non gioco da solo, siamo quello che è più importante, perché io vedo in campo che uno e uno vuole luttare per i compagni e questo è quello bello e tutti insieme così penso che possiamo arrivare lontano. Potrete prepararvi per questa seconda parte di stagione davvero complicata, però il CUS c'è anche in ottica playoff. Sì, il CUS c'è, dobbiamo adesso riposare, è sempre importante, però rimaniamo facendo allenamento sempre più forte, perché sappiamo che questa società può arrivare lontano e anche noi, giocatori, vorremmo arrivare lontano.